Il 29 agosto del 2000, tre banditi in una strada privata mi hanno aggredito, mi hanno sparato. Andrea presentava una paraplegia, quindi una lesione a carico del midollo spinale che coinvolgeva il deficit totale degli arti inferiori. La tua vita si modifica a tal punto che tu devi capire, ti deve essere insegnato come riorganizzare, come poter ricrearti una situazione di autonomia. Lo Spirito di Stella è un'imbarcazione che vuole innanzitutto condividere con altre persone che hanno avuto delle problematiche, anche con persone invece che non hanno nessun tipo di problema, il mare. È possibile eliminare completamente le barriere architettoniche. Nessuno l'aveva mai fatto, Andrea è riuscito a creare una barca per tutti. Credo che se si riesca a modificare un'imbarcazione pensando affinché questa imbarcazione possa essere utilizzata da qualsiasi persona, sia molto più semplice poter pensare di modificare tutta la nostra civiltà, tutta la nostra società. Grazie a tutti.